L'assessore regionale all'economia Leonardo Marras è intervenuto sulle prospettive la trasformazione dell'assetto di Fili Toscana, per cui si apre la strada della privatizzazione. Si va verso il riassetto regionale all'economia attraverso la trasformazione in agenzia per lo sviluppo della società in house sviluppo toscana. Sabato 9 e domenica 10 aprile a Montespertoli si tiene la rassegna dedicata alla qualità di ciò che mangiamo. Occorre lavorare sulla filiera corta affinché i nostri prodotti finiscono sulle nostre tavole, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Creare un'agenzia dello sviluppo partendo da sviluppo toscana, oggi società in house, rivedere il ruolo di Sici e diminuire il peso della regione nel pacchetto azionario di Fili Toscana, trasformandone l'assetto societario con l'affidamento della maggioranza delle quote al privato e cercando nuovi partner industriali. Questo in sintesi il futuro societario di Fili, come comunicato dall'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, intervenuto in aula sulle prospettive sulla trasformazione dell'assetto della società che da quando è nata negli anni 70 ha visto la regione come socio di maggioranza relativa. La proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house, ecco perché non andiamo a trasformare Fili Toscana, perché sviluppo toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di Fili Toscana e di Sici può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto, quale mission e cosa dovrà fare Fili Toscana, perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la regione a definirlo. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza, solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di fili toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il Fondo di Garanzie Centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorsi fili del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese e il sostegno, soprattutto nel settore commerciale, artigianale, piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale, nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di fidi toscana da parte della regione toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Fondamentalmente non ci convincono i tempi perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi e Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo, i bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la giunta non ha chiaro quello che succederà. Ci sono forti incertezze su questa strategia, anzitutto abbiamo perso un anno, un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su sviluppo toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della giunta Gianni, il primo vero fallimento politico. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in regione toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie, ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana, avevamo ragione, i conti lo dimostrano, guardate in dieci anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica, della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese e che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale. Non ci basta un piccolo documento di quattro pagine di Prometea quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizi e i giudizi consapevoli li hai, si hai gli strumenti per formarti quel giudizio e Prometea era un elemento essenziale quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. La valutazione è veramente sorprendente. Non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la regione toscana dichiara non più strategica e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate alle garanzie di Fidi Toscana. Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri e approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. Il formaggio è protagonista della terza edizione di Seme Insieme, la rassegna dedicata alla qualità di ciò che mangiamo che si tiene sabato 9 e domenica 10 aprile a Montespertoli. L'evento presentato a Palazzo del Pegaso è organizzato dall'Associazione Produttori Colline Toscane con il patrocino del Comune di Montespertoli della regione toscana dopo due anni di stop causati dalla pandemia riparte e dopo aver approfondito nelle scorse edizioni i temi dei grani di tradizione dell'olio extravergine di oliva e le sue coltivazioni nel 2022 la rassegna accende riflettori sui derivati del latte. Ringrazio il sindaco Alessio Mugnaini per aver voluto questo momento qui in consiglio regionale. È davvero bello e importante ripartire e ritrovarci in presenza e ci siano tante di queste iniziative e noi come consiglio regionale vogliamo essere a fianco di chi investe sulla qualità dei nostri territori. La Toscana non è solo arte, cultura, bellezza, la Toscana è anche cibi di qualità, eccellenze che vogliamo portare anche fuori dal nostro territorio. Montespertoli che è terra di vino e anche terra di latte ed è bene che ci sia un lavoro in questa direzione che questi due giorni servano anche a raccontarne il valore alle famiglie. Noi dobbiamo lavorare sulla filiera corta, dobbiamo lavorare affinché i nostri prodotti finiscano sulle nostre tavole a partire dalle nostre scuole. Credo che anche la formazione alimentare serva a renderci persone migliori. Questa è la sfida che è stata lanciata. È bello sapere che dopo due anni di stop si ritorna a farlo in presenza e sono davvero felice oggi di poter ospitare tutto questo qui insieme all'Associazione nel Consiglio regionale. La terza edizione, nonostante il Covid, di seme insieme è un legame forte tra il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio, la qualità dei prodotti del nostro territorio e quindi anche un richiamo all'importanza di ciò che mangiamo rispetto a tutti i cittadini. Creare una cultura toscana della qualità dell'alimentazione è importantissimo e incentivare i produttori che ci garantiscano questa grande qualità dei prodotti che anche, in questo caso si parlerà del formaggio, verrà declinato in tante versioni, ci saranno i cheese bar, ci saranno mercatini, ci saranno convegni. Una grande occasione per apprezzare gli importanti e l'eccellente qualità dei prodotti toscani. È la cosa più bella perché vuol dire che dopo due anni di pandemia è un evento importante soprattutto per la capacità che ha l'Associazione dei produttori delle colline toscane di fare rete tra i vari attori del territorio. Quest'anno parleranno di formaggio, un tema che è particolare, è molto esperto e che può avere degli sviluppi importanti. Quindi noi lo seguiamo con grande attenzione e siamo contenti di presentarlo insieme all'Associazione e insieme al Consiglio regionale. Credo che il messaggio più importante sia che dopo due anni si può tornare a fare eventi in presenza e di qualità e che senza fare rete non si va da nessuna parte. Magari si vanno un po' più lenti a stare insieme ma la strada se ne percorre sicuramente di più. A Montespertoli ancora secondo me vale meno di quello che sono le sue potenzialità e quindi dobbiamo stare vicino alle aziende agricole per aiutarle a fargli scoprire queste potenzialità. Questo è il primo di una serie di eventi, questo è organizzato dalla Associazione dei produttori oline toscane ma ce ne saranno tanti e vedo un protagonista delle aziende sul territorio. A mio avviso è il punto di crescita di Montespertoli proprio su questo tipo di turismo. Per noi è un'emozione ritornare a fare eventi, eventi di questo calibro con l'importanza appunto del patrocino del nostro comune e della regione toscana. La manifestazione troveremo un po' di tutto diciamo, tutta la filiera del latte e dei formaggi, delle DOP provenienti da tutta la Toscana. Quest'anno l'abbiamo aperto solo alla nostra regione per un discorso proprio di vastità dell'argomento rispetto agli anni scorsi dove avevamo aperto alla nazione, insomma a tutta l'Italia. Per noi questo è uno stimolo e veramente qualcosa di grande poter ripartire, riportare felicità alle famiglie attraverso un prodotto di qualità come formaggio, che è un prodotto principe dove tutti i giorni viene utilizzato nelle nostre famiglie.